Il ricordo commosso di Pescara del suo Pietro Cascella al centro di un convegno organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Pescara. La testimonianza della moglie di Pietro Cascella, la scultrice Cordelia von den Stein, si è unita agli interventi del professor Chris Polti, della storica dell'arte pontigia di Restituto Ciglie Claudio Barontini. All'evento ha partecipato l'assessore Giovanna Porcaro. Nel quinto anniversario della scomparsa di Pietro Cascella, uno scultore, un artista, uno degli esponenti della più prolifica e stupenda famiglia di artisti pescaresi, Cascella appunto, l'assessorato alla cultura e all'amministrazione ha organizzato questo bel convegno, invitando persone e personalità che lo hanno conosciuto, studiato ed ammirato. Il convegno è stato curato dai docenti Giovanna Battista Benedicenti e Simone Ciglia. Quindi si è pensato di invitare critici storici dell'arte che hanno avuto modo di lavorare con Pietro Cascella e che quindi ne conoscono in maniera approfondita l'opera e in maniera complementare invitare anche alcune personalità che hanno avuto modo di conoscerlo in due periodi diversi della sua vita perché ci saranno persone che lo hanno conosciuto nel suo periodo pescaresi ed altre che invece si sono avvicinate a lui negli ultimi anni toscani.